Musica Allora, buonasera e intanto grazie per coloro che sono utile anche i ragazzini e i bambini perché è una conferenza dedicata a loro, diciamo anche la prima conferenza stampa di questa stagione anche se non è iniziata ufficialmente, la prima anche mia quindi come tesserato della Tiger Brawl che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che questa conferenza stampa è stata fatta per inaugurare in qualche modo un nuovo progetto della Tiger che è quello del settore giovanile un progetto che è stato studiato, abbiamo qua infatti esponenti della società ovviamente la dirigenza, il presidente Tripp e il vicepresidente Gatto abbiamo il direttore sportivo Antonio Matista e soprattutto abbiamo coloro che oggi sono i protagonisti di questa conferenza cioè gli allenatori, gli istruttori, il responsabile tecnico del settore giovanile che sarà il mister Fabio Domina poi abbiamo gli allenatori, gli altri istruttori che sono il mister Nino Bonano e il mister Nino Palmeri questo progetto è un progetto ovviamente che parla del settore giovanile di giovani vi mostro le locandine che abbiamo studiato per questo progetto sono due slogan, due locandine, un unico scopo innanzitutto qua abbiamo studiato questo slogan nella storia siamo noi che è lo slogan della Tiger in Serie D con il futuro siete voi, nella locandina vedete tutti quello che abbiamo messo, abbiamo fatto un gioco cioè dietro sfumato il nostro capitano, possiamo dirlo direttore che sarà anche il capitano della prossima sezione cioè Vito Lupo, perché la storia siamo noi, la Tiger in Serie D e poi il futuro siete voi con i nostri presidenti e i figli di uno di loro che sono il nostro futuro, perché ovviamente la Tiger si deve basare soprattutto sui giovani è un progetto che consiste nell'attività di base, significa piccoli amici, significa pulcini, significa esordienti giovanissimi allievi, ovviamente anche la Juniors, si partirà dagli anni del 2008 fino ad arrivare al 1998 per gli allievi quindi 10 anni di 10 classi insomma e la seconda invece locandina che è sempre ripartiamo da voi è un po' più diciamo per i più giovani visto che c'è Olio, la maglia della Tiger abbiamo studiato ovviamente queste due varianti non tanto perché per differenziare come vi dicevo prima però sono due varianti di uno stesso scopo uno scopo che ora illustrerò ovviamente il nostro direttore sportivo con gli allenatori e la dirigenza qual è lo scopo della Tiger per questo lavoro perché ovviamente l'obiettivo della Tiger Pro è che un giorno si possa avere 1, 2, 3, 10, 11, 20, non si sa, giocatori che siano in grado comunque di calcare campi palcoscenici importanti eccellenza, serie D e chissà, poi non lo voglio dire quindi anche del comprensorio, quindi lavorare dai giovani perché comunque è questo l'obiettivo principale chiaramente ora io lascio la parola al direttore sportivo che presenterà nel dettaglio i nostri allenatori possiamo cominciare ufficialmente questa conferenza stampa anche proprio entrando nel dettaglio quindi la parola al nostro direttore lo presento io sì io l'ho presentato ovviamente diciamo per capire pure perché sono stati scelti e quello che hanno in qualche modo, quello che rappresenteranno e quali saranno i programmi a breve e a lungo termine della Tiger Pro a livello giovanile innanzitutto parto con dire che questo settore giovanile è stato fortemente evoluto dai due presidenti perché comunque negli anni penso che la Tiger, almeno da quando ci sono io il settore giovanile non mi ha avuto comunque il settore giovanile della Tiger manca almeno da 7-8 anni se non so di più quindi è stata una cosa fortemente evoluta giusto per creare appunto un futuro a questa società perché oggi diciamo che c'è solo la prima squadra, l'anno scorso il B4A Juniors che si è comportata in maniera egregia per tutto il campionato, abbiamo fatto il secondo posto però comunque partire dall'attività di base, avere le categorie come giovanissime gli allievi che possono essere il serbatoio per la prima squadra è il nostro obiettivo noi vogliamo, ma lei è sicuramente un obiettivo che può essere raggiunto a stretto giro ma è un percorso comunque da almeno 3-4 anni giusto il tempo, almeno 3-4 anni per vedere qualcuno che poi sarà valutato lo staff tecnico della prima squadra per vedere se sarà possibile averlo nella rosa della prima squadra abbiamo scelto Fabio Domina come responsabile del settore giovanile che poi ci ha suggerito i distruttori che sono qui per esempio che sono Nino Bonanno e Nino Palmelli Fabio Domina ha piena fiducia da parte della società e sicuramente crediamo che sia la persona giusta per portare avanti un progetto che deve essere un progetto di qualità questo non è il classico settore giovanile fatto così giusto per lucrare qualcosa ma è un settore giovanile fatto appunto per avere risultati sul campo quindi dei ragazzi che comunque possano negli anni arrivare se non dall'attacca della prima squadra avere magari un futuro in qualche altra squadra che non sia certi che sia in centenza, in promozione insomma vogliamo dare un'alternativa a quella che è la prima squadra allora io direi adesso la parola anche agli allenatori partendo ovviamente dal responsabile tecnico e poi con gli istruttori per spiegare anche quale sarà il lavoro di quest'anno perché è un lavoro ovviamente pluriannale però si deve cominciare da qualcosa mister quindi la parola al responsabile tecnico del settore giovanile 2014-2015 della Riker Broda cioè mister Fabio Domina io intanto ringrazio la società per la fiducia che mi è stata data per portare avanti questo progetto di settore giovanile è il mio campo da tanti anni ci lavoro con questi ragazzi e giustamente è importante è importante aver trovato la società la Tiger qui presente che sponsorizza questo tipo di discorso che non è un semplice come diceva il direttore è un semplice settore giovanile che ha uno scopo di lucro che non è proprio quello noi dobbiamo dividere, dobbiamo cercare di fare un qualcosa che sia produttivo per la prima squadra, per la Tiger e anche per i ragazzi soprattutto noi dobbiamo fare una diversificazione abbiamo la scuola calcio che va dai piccolini fino agli esordienti dove lì naturalmente c'è un lavoro dietro dove non si richiede vittoria dove non si richiede niente deve essere un lavoro fatto gioioso deve essere un lavoro fatto per sviluppare quelle che sono le attività di base gli schemi motori di base è quello importante sui bambini lavorare su questi aspetti mentre quando parliamo poi di settore giovanile parliamo dei giovanissimi a salire il discorso cambia il discorso cambia perché se la società deve investire su un progetto di questo genere è chiaro che poi alla fine ci deve essere un ritorno ed è normale ma non deve essere un ritorno di tipo economico è un ritorno di tipo materiale umano noi vogliamo fare questi campionati giovanissime, allievi, juniorse vogliamo preparare questi ragazzi per la Tiger cioè l'obiettivo di questo settore giovanile a partire dai giovanissimi è la Tiger, è la serie D perché altrimenti non avrebbe nessun motivo di nascere a Brodo ce ne sono già due settori giovanili andiamo a Capodollano ce ne sono altri due tutti i paesi sono organizzati a fare settori giovanili ma alla fine non esce niente di quello che una società deve avere e allora insieme a Nino Bonanno insieme a Nino Palmeni e con la società che ci sponsorizza dietro alla grande mettendo a disposizione quella che è tutta la struttura noi cercheremo di portare avanti questo tipo di discorso che alla fine dia i frutti che tutti ci aspettiamo Qual è, facendo una domanda rivolgendoci chiaramente anche agli istruttori la peculiarità che potrà avere il settore giovanile della Tiger perché qualcuno dovrebbe scegliere la SD Tiger Brawl piuttosto che un altro settore giovanile quale sarà il tipo di lavoro che verrà fatto chiedo anche agli istruttori ovviamente perché sicuramente saranno parte integrante di questo progetto se non parte, anzi parte fondamentale direi Ma... No, no Perché devi scegliere la Tiger? Devi scegliere la Tiger perché la Tiger già è un nome è una garanzia, è una società che partecipa a un campionato di serietti con la sua nota organizzazione la Tiger e qui mette a disposizione tutto quello che c'è mette a disposizione i medici mette a disposizione tutto tutto quello che è l'organizzazione che è stata creata fino ad ora poi gli istruttori siamo questi io non lo so se possiamo essere delle garanzie quelle lo devono dire gli altri e... sta facendo questi sforzi la società, anzi mi sono dimenticato di dire pure una cosa che è molto importante che noi non aspettiamo i bambini di Brollo e si chiudere noi c'è Nino Bonanno qui che lavora su Patti anche su Patti avremo una struttura è un altro, è un ulteriore sforzo che la società sta facendo c'è un altro punto di riferimento oltre Brollo e Patti perché vogliamo raccogliere tutto quello che c'è intorno a Brollo tutto quello che c'è intorno a Patti perché per noi sì l'obiettivo diventa la Tiger perché è la Tiger che sponsorizza questo discorso però i ragazzi devono arrivare da tutti i paesi c'è un lavoro di scavoli in mezzo ma certo, è chiaro questo è l'obiettivo portare i ragazzi della nostra zona farli convergere tutti qui cercare di creare questo gruppo questi due, tre che poi alla fine in percentuale su 20, su 30 ne riusciranno tre però già è un risultato anziché andare a Palermo, a Catania, a Enna, Siracusa la Tiger come punto di riferimento piuttosto che scegliere il Palermo e il Catania si può iniziare a pensare anche a una squadra di nebri anche a livello del settore giovanile io allora chiedo anche alla nostra indigenza cioè ai nostri presidenti, il presidente Trippi e il vicepresidente Gatto quanta orgoglia e quanta felicità c'è comunque per iniziare questo nuovo progetto e anche quali stimoli ci sono per la Tiger che comunque ha raggiunto i risultati importanti a livello di prima squadra però il settore giovanile è un altro mondo e quindi bisogna lavorare con la stessa passione lo stesso entusiasmo e la stessa professionalità addirittura di più perché nella prima squadra io ho sempre considerato più facile gestire una prima squadra che il settore giovanile infatti Antonio prima diceva che aveva 7 anni invece di questa società che dal 2003 non ce l'ha mai avuta e il motivo era intanto come ha detto Fabio che qua a Palermo c'era la futura che era organizzata e quindi noi pensavamo che per fare quel passo non eravamo organizzati perché per organizzare un settore giovanile ci vogliono persone come questi signori che ci sono qua oggi che si impegnano che hanno le competenze per gestire dei ragazzini e per fargli crescere per avere poi un fine che sarebbe quello di farle arrivare in prima squadra i giocatori più possibili però ripeto io sono contentissimo perché ero un neo che aveva io sempre non vedo l'ora di vedere bambini con le competine della Tiger perché è stato sempre un desiderio poi sono contento quindi sono anche stra sicuro che l'organizzazione che abbiamo creato è un'organizzazione sana un'organizzazione competente sono convinto che quello che noi daremo a disposizione quando tu dicevi il fatto di qual è il motivo per scegliere la Tiger il motivo intanto è perché la Tiger non è per niente levando agli altri la Tiger come ha detto Fabio è la Tiger e poi secondo me diciamo che per ora siamo una delle società più pazze che c'è in circolazione nel senso che mentre gli altri investono nelle prime squadre noi e nei settori giovanini cercano di monetizzare perché alla fine la verità è questa zona noi invece stiamo cercando proprio di investire noi per quest'anno stiamo investendo soldini per cercare di da subito rendere a disposizione a questi allenatori una struttura già capace di gestire tutto nel migliore modo possibile avremo compreremo dei pulmini per la raccolta per diciamo un'organizzazione che già da subito è efficace perché di solito quando uno parte all'inizio è anche normale che per rinquadrarsi ci vuole un po' noi siccome già ne parliamo da dicembre di questo progetto ci siamo organizzati in silenzio e ora che stiamo presentando questo progetto già siamo pronti per partire quindi ora mancano solo i bambini per i bambini nella parte diciamo e poi anche gli allenatori che devono essere bravi come ha detto prima Fabio a cercare in giro se ci sono ragazzini diciamo che hanno quella quella marcina in più rispetto a altri in modo che perché io glielo dico già direttamente a loro di solito glielo dico all'allenatore della prima squadra ma a me piace vincere quindi se in qualunque campionato noi parteciperemo dobbiamo fare bella figura anche nonostante il fatto che come diceva giustamente Fabio sono ragazzi ci sono categorie che là vincere perdere non c'entra niente là è proprio una questione di educare il ragazzino all'ambiente sportivo a che cosa è sport perché poi lo sport sappiamo tutti che non è solo calciare un pallone ma sono regole disciplina quindi il ragazzino può solo beneficiare della protogia che dà un allenatore di calcio una battuta anche per il vicepresidente io credo perché comunque tu sei il vicepresidente ovviamente lo sapete è stato anche un grande giocatore quindi senza insomma troppo la modestia quanto può essere importante anche creare un senso di appartenenza alla Decker-Bron sin da bambini bravissima infatti ne abbiamo parlato nasce un progetto da subito questo che da ora in poi chiunque nascerà a Brollo i neonati il progetto neonati la Decker regalerà da subito un completino della Decker ai neonati ma non per fare il regalino della nascita al neonato ma per già imparare il senso di appartenenza alla Decker di passione di amore che poi nascerà per il resto della vita con loro andremo a scuola a parlare progetto scuola per avvicinare la scuola anche alla Decker e come hai detto tu per sviluppare quel senso di appartenenza che era una caratteristica nostra dei giovani della Decker che grazie al mister Cipriano che indossava quella maglia della Decker già delle giovanili se la sentiva per tutta la vita e noi vogliamo ricreare quei presupposti quindi sono sicuramente degli obiettivi importanti abbiamo avvisato più o meno quello che saranno i programmi i progetti e anche le ambizioni che si hanno in questa stagione e in quelle future per il settore giovanile e allora io intanto vi ringrazio perché siete venuti e se avete curiosità anche chi non è della stampa intanto ovviamente prima spazio al collega Salvatore soprattutto e poi se ci sono delle curiosità loro sono qui per voi ovviamente quindi prego anche voi di fare qualche domanda qualsiasi tipo di richiesta da fare allora personalmente dovrei chiedere ai due presidenti una cosa ecco momento di crisi momento che ovviamente le esplodità economiche in giro ce ne sono poche ulteriore sforzo personale forse di entrambi per creare questo nuovo progetto perché penso come dicevate Polmini e tutto il resto penso che sia un investimento grosso per la TAIR ma penso anche per il paese del Brolo tanto toglie forse sull'impegno personale di noi due perché è un impegno veramente personale l'investimento giustamente è un investimento diciamo importante stiamo cercando di renderlo giustamente all'inizio un investimento importante sì ma nello stesso tempo non è un investimento accelerato perché noi qua tutti ci danno come una società giustamente sana perché ci siamo diciamo che ci sono due aziende che fanno la partenza mia e di Tonino i rappresentanti dei suoi soci che danno un grandissimo contributo però non buttiamo soldi quindi quello che abbiamo investito è quello giusto è quello che ci vuole giustamente l'input è stato di un'organizzazione efficace però nello stesso tempo cercare di rendere l'investimento non importantissimo quindi diciamo perché io sento sempre in giro giustamente che sta Tiger non so che cosa invece noi ripeto quello che abbiamo cerchiamo di spenderlo sempre nel miglior modo possibile possibilmente ci sono società che quello che noi oggi abbiamo investito per il settore giovanile lo investiranno per un singolo giocatore noi l'abbiamo investito nel settore giovanile possibilmente poi quando vedrai la campagna acquisti della Serie D ti accorgerai che ci poteva essere un pezzo in più e non c'è perché abbiamo investito nel settore giovanile quindi diciamo gestiamo noi quello che abbiamo posso così? perfetto allora l'ultima battuta proprio per chiudere direttore possiamo dire che sono ufficialmente aperte le iscrizioni o comunque che partiranno a breve che partirà ufficialmente a breve il settore giovanile sì noi siamo già la locandina lo dici sono anche numeri di telefono alla quale poter chiamare sono di Fabio Domina e di Nino Moranio anche il mio per qualsiasi cosa qualsiasi informazione qualsiasi cosa su quello che sono i costi o quelle che sono le strutture le categorie i campionati che andremo a fare anticipo che comunque per quelle che sono le categorie giusto Fabio e lei che è buonissimi siamo ancora diciamo sul fare in elitto e regionale sono campionati comunque prestigiosi entrambi è soltanto una scelta così anzi dico pure che l'inter è un campionato più spambioso a livello di quelli regionali perché comunque partecipano sono meno gironi penso quindi dividono la Sicilia in due come se fosse una piccola eccellenza niente quindi noi invitiamo le persone di lasciare la tagher appunto per i motivi d'identità qui dai presidenti e dagli istruttori quello che la tagher è sicuramente è uno strumento anche di aggregazione come si suol dire per togliere anche i ragazzini dalla strada perché giocare nel campetto senza nessun piuttosto che venire di essere eseguiti dai tecnici che sono comunque tutti qualificati venire in una struttura che comunque dico non lo dico io ma lo dicono i fatti perché questa società è sempre è stata abituata almeno ripeto io parlo quando ci sono io ma credo anche il primo che ho sempre sentito parlare bene della tagher di queste persone qui presenti che oggi come si suol dire sono dei pazzi perché io mi rendo conto anche come prima squadra siamo i primi a muoverci siamo i primi a parlare di ritiro siamo i primi a programmare le altre società ancora non sanno non sanno se partono non sanno se non partono poi invece c'è un progetto che è chiaro che è indefinito due persone competenti e serie che difficilmente si possono trovare in questo mondo ma non è la sguinata ma è la pura realtà lo sanno e come settore giovanile credo che abbiamo dei istruttori preparatissimi il personale qualificato quindi niente io penso che la tagher debba essere scelta per questo e poi c'è la serie D che è normale che è un volano comunque uno specchietto un po' d'attrazione per quello che possono essere i ragazzi lo sbocco sicuramente non è un campionato oggi non è un campionato di basso rilievo ma è la nuova la nuova serie C quindi diciamo siamo alle porte del professionismo quindi tengo quella tagher in questo momento rappresenti un punto di riferimento e lo vuole diventare sempre di più almeno nella zona mistero Fabio Domina per chiudere sì volevo dire soltanto una cosa riprendendomi a quello che diceva il presidente sul settore giovanile che la società sta investendo e forse è l'unica società che lo fa ma bisogna dargliene atto al presidente perché secondo me forse ma sicuramente è l'unica società invece che sta lavorando con criterio perché come si fa a pensare di avere una squadra in serie D o in eccellenza e non avere un vivaio dietro che ti possa dare una mano d'aiuto sì è vero oggi oggi è un investimento perché toccherà comprare il pulmino toccherà comprare quello che serve per l'amor di Dio ma lo dobbiamo guardare noi in un immediato non immediato due o tre anni quelli ce li dobbiamo prendere tutto e c'è un ritorno è quello che dicevo poc'anzi il settore giovanile fa parte della della società è la base sono le basi per poter portare avanti una società c'è un ritorno ma è così e sono gli altri che ancora non l'hanno capito forse e pensano e pensano che il settore giovanile sono solamente in picci punto e basta io ho sempre lavorato nei settori giovanili poche sono le società che ci credono oggi mi ritrovo in un gruppo nella Tiger e poi è la squadra del mio paese quindi vediamo un po' c'è l'entusiasmo massimo da parte di tutti perché forse forse io mi auguro ma ne sono sicuro più che altro siamo sulla strada giusta noi riusciremo con lo sforzo della società con il nostro con lo sforzo di tutto ad arrivare ad ottenere degli obiettivi importanti importantissimi la serie D ragazzi oggi ancora più di prima che è diventata la quarta serie è una vetrina per questi giovani molti giocatori prima di andare in serie A sono passati dalla serie D questi ragazzi li dobbiamo costruire noi qui in casa non dobbiamo andare più a Palermo a Messina vabbè Messina diciamo ancora a Catania a Siracusa quelli che abbiamo qui forse non hanno niente di meno degli altri bisogna solamente stimolarli dargli la struttura giusta e qui alla Tiger possono trovare tutto questo mix di cose che servono grazie a tutti ovviamente per questo motivo noi abbiamo scelto di dare tanto spazio al settore giovanile perché è la base di una squadra importante non solo in serie D ma anche nelle categorie superiori senza un settore giovanile importante non si può andare avanti a prescindere dai momenti di crisi per questo motivo noi cercheremo sempre di informare il più possibile non solo la stampa ma soprattutto i genitori e i bambini perché sono loro il nostro diciamo obiettivo le persone il nostro target che deve essere informato su quello che farà la Tiger e ricordatevi allora che ripartiamo da voi e la storia siamo noi è vero ma il futuro siete voi quindi soprattutto voi più piccolini grazie e una buona serata grazie a tutti